Sarebbe vicino all'organizzazione mafiosa degli Emanuello, un imprenditore gelese di 36 anni, Sandro Missuto, colpito da un provvedimento di confisca emesso dalla DIA di Caltanissetta. Nel mirino sono finiti beni per un valore complessivo di 25 milioni di euro. Tra questi ci sono due imprese attive nel settore della produzione, trasporto e fornitura di calcio e struzzo, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, nonché beni mobili ed immobili, tutti situati a Gela. Un altro sequestro di beni è stato eseguito nei giorni scorsi a Catania. Questa volta, a finire nel mirino della DDA, è stato Antonino Fichera, di 71 anni. L'uomo, già sorvegliato speciale e arrestato nel 2013, nell'ambito di un'inchiesta su un omicidio di mafia, è indicato come contigua al clammafioso Cappello. Il provvedimento di sequestro interessa aziende, unità immobiliari e automezzi per un valore complessivo di circa un milione di euro. Il provvedimento di sequestro ha riguardato un terreno e un edificio di quattro piani, due imprese individuali e due autovetture. Antonino Fichera, attualmente agli arresti domiciliari, ha numerosi precedenti penali per furto, ricettazione, portabusivo di armi, associazione per delinquere, estorsione e domicidio.